Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza nazionale e all'emergenza è necessario rispondere con tempestività e coraggio come chiedono famiglie, lavoratori e imprese. Servono subito nuove e importanti risorse pubbliche per sostenere gli italiani contro il caro bollette e intervenire immediatamente con l'attivazione del tetto al prezzo del gas. Il paese è in pericolo, serve l'unità di tutte le forze politiche. Così i governatori della Lega chiedono ai partiti responsabilità e unione per far fronte all'emergenza determinata dai rincari di luce e gas che stanno mettendo in ginocchio famiglie, mondo economico e non ultimi gli enti locali. Da tempo i sindaci hanno lanciato l'allarme sui rincari che pesano sui bilanci di municipi con il rischio ormai sempre più concreto di vedersi costretti ad aumentare le tasse o tagliare i servizi ai propri concittadini. Un estrema razio da evitare per il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Abbiamo bisogno di un aiuto, di un aiuto costante perché la risposta non può essere quella di spegnere l'illuminazione pubblica ovunque perché avremo città e comuni più insicuri con minore qualità della vita, sicuramente dovremo stringere nei consumi, dovremo risparmiare però non possiamo peggiorare le nostre città e dall'altra abbiamo bisogno che l'economia regga e per questo che è fondamentale la velocità sul PNRR. Conosce bene la gestione della macchina comunale l'ex sindaco di Vicenza Chille Variati secondo il quale una situazione così delicata va gestita con serietà e lucidità. Se una famiglia con le bollette così care fa fatica a arrivare a fine mese un comune addirittura potrebbe alla fine mettere in discussione i servizi che dà ai cittadini e sappiamo che il comune è portato a fare dei servizi ai cittadini più bisognosi quindi la situazione è veramente tanto difficile e qua c'è il mercato delle parole e troppa poca serietà. Il governo sta lavorando ad una serie di misure per aiutare le famiglie e le imprese ma per il segretario PD Andrea Martella sono necessari ulteriori passi. È una situazione quindi insostenibile il governo è già intervenuto con alcune misure oggi interverrà con altre misure che servono proprio per venire incontro alle famiglie più in difficoltà e alle imprese raddoppiando il credito d'imposta ma io penso si tratterà di intervenire anche per sostenere i mancati guadagni che sono relativi anche all'aumento del prezzo dell'energia.